Olbia, ieri mattina i carabinieri del reparto territoriale con il supporto dello squadrone riportato cacciatore di Sardegna e di due unità cinofile di Abbasanta, con il supporto aereo di un elicottero del decimo nucleo elicotteri di Olbia a Venafiorita, hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro finalizzata alla confisca ai sensi del codice antimafia emessa dal Tribunale di Cagliari su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di due imputati nel procedimento connesso all'operazione denominata Barbershop, condotta dal reparto territoriale dei carabinieri di Olbia e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari nel febbraio 2020, su indagini seguite dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Olbia per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico o lo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Il sequestro ha interessato beni immobili, mobili, conti correnti e strumenti finanziari di investimento di sei persone legate dal vincolo di parentela nei confronti dei quali è stato accertato che il loro valore è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e l'attività economica svolta, nonché la sussistenza di indizi tali, da consentire di ritenere che siano il frutto dell'attività illecita e ne hanno costituito il riempiego. L'oggetto del sequestro sono due immobili abitativi, un lotto di terreno esteso di 2.500 metri quadri, un garage, quattro autovetture, due motocicli, due conti correnti, due carte di pagamento elettronico prepagate e 10 polizze assicurative vita-morte per un importo complessivo che si aggira intorno al mezzo milione di euro. Gli accertamenti patrimoniali che riguardano il periodo da febbraio 2020 ad aprile 2021 sono scaturiti dalle risultanze dell'indagine condotta dalla sezione operativa che ha fatto emergere l'esistenza di un sodalizio associativo finalizzato al traffico di ingenti quantitativi di cocaina che importavano dalla Campania e dal Lazio, mentre gli altri erano incaricati dello smercio all'ingrosso e al dettaglio che si è concluso nel febbraio 2020 con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare di 16 persone, l'arresto in flagranza di reato di 5 persone nonché il sequestro complessivamente di circa 3 kg di cocaina, 300 g di hashish e 100 g di marijuana.